cari amici benvenuti un altro dei nostri incontri alla radice della natura e abbiamo già parlato nei nostri incontri di virus ricordate abbiamo parlato di herpes virus di virus influenzali di adenovirus di epstein bar virus eccetera eccetera quindi è uno degli argomenti che mi interessa di più perché sono sono cose importanti perché l'uomo è sempre vigilante su quelle che possono essere le le epidemie e soprattutto le pandemie pensate come la storia è stata influenzata dalle dalle pandemie dalle epidemie adesso mi viene in mente il tempo in cui marco aurelio combatteva sul danubio e le regioni che venivano dalla siria per esempio avevano portato questo virus si parlava di peste ma in realtà al tempo dei romani spesso si parlava di peste per definire una malattia a cui uccideva rapidamente molte persone non si trattava probabilmente di peste si trattava di uno dei soliti virus che vengono dall'oriente ecco intanto precisiamo un concetto molto importante la gran parte dei virus sia questo il vaiolo siano queste i virus influenzali adesso il nuovo virus che viene appunto dalla cina così vengono dall'oriente come se in oriente ci fosse una sorta di serbatoio di virus soprattutto nella parte del sud est asiatico regione della cina che dove c'è un clima molto umido e molto caldo che secondo il mio punto di vista studiando è un pavulum possibile per la provenienza dei virus non è che non venga niente da occidente l'occidente abbiamo avuto dal dall'america i conquistadores spagnoli hanno portato la sifilide ma tutte le grandi virosi diremo oltre alla peste bubonica sono arrivate diremo normalmente da oriente quindi questo questo concetto abbastanza interessante su cui poi ci ricollegheremo l'altro concetto è anche il fatto che i virus più pericolosi sono quelli sconosciuti per l'uomo quindi se l'uomo entra in contatto con un virus che in qualche maniera diremo come per esempio quello del morbillo della varicella o alcuni ceppi influenzali che in qualche maniera sono già stati conosciuti da lui o dai suoi dai suoi genitori dai suoi avi perché ricordiamoci che noi trasmettiamo per il nostro dna anche le esperienze patologiche attraverso i nostri figli quindi se i nostri ascendenti sono tutti stati più o meno contagiati da morbido noi saremo in un certo senso protetti dal morbido anche se questo non in maniera naturalmente assoluta quindi quando un virus si manifesta nuovo molto spesso emerge da un animale e dall'animale in cui era endemico si adatta poi alla all'uomo questo virus essendo nuovo per l'uomo diventa un virus estremamente pericoloso si è parlato del virus dell'hiv che sembra essere partito dalle scimmie si è parlato della sars di qualche anno fa che era un virus che sembrava partito dal maiale si parla dei virus influenzali che sembra essere legati alle dalle anatre che migrano anche queste da oriente ad occidente quindi tutti i virus che motorizzano partono da un serbatoio animale non sono conosciuti all'uomo ma improvvisamente per una mutazione interna si adattano all'uomo e diventano estremamente pericolosi perché l'uomo non li conosce e quindi questo è il concetto qui quindi l'attualità di questo concetto è quello dei corona coronavirus che sono un gruppo di virus a cui appartiene anche questo virus che è comparso in un mercato del pesce della città di wang in cina all'inizio di dicembre questo e questo virus sta diffondendosi abbastanza rapidamente ci sono stati dei casi negli stati uniti si parla di un caso forse in inghilterra e ci si parla già di parecchi non di moltissima ma di una serie di persone morte perché questo virus determina una polmonite che faccio presente che questi coronavirus rappresentano normalmente questa questa famiglia di virus il 20 per cento delle polmonite virali che sono tra l'altro le più pericolose sono dovuti a questa famiglia di virus sono dei virus rna quindi molto simili della stesso gruppo diciamo dei virus influenzali ovvero virus che causano una grande reattività nel nostro corpo quindi causano delle febbre molto alte e molto pericolose e sono molto diversi dai virus invece dna che sono quegli herpes virus che abbiamo già imparato a conoscere che invece non causano malattie così acute ma tendono a non guarire mai a rimanere nell'organismo e a manifestarsi quando l'organismo si indebolisce e quindi c'è un grande terrore di questo virus perché naturalmente si ammanca le soglie del del nuovo anno cinese dell'anno lunare cinese quindi sembra che si spostino milioni di cinesi sia all'interno della cina che nel mondo e quindi c'è una paura molto molto importante per questo virus che ha determinato ci sono già 25 morti e circa 600 contagiati che incominciano a comparire questa volta nel mondo questa volta è un virus che deriva da un altro animale nuovo che è il serpente quindi questa volta abbiamo più a che fare con il maiale con i virus aviari abbiamo a che fare con un virus che deriva dal serpente sapete che tra l'altro in Cina c'è questa consuetudine di mangiare anche i serpenti oltre agli scorpioni e a molte cose che noi normalmente non mangiamo quindi c'è stato questo passaggio virale dal serpente ovviamente qualche cinese ha mangiato in questo cinese si è adattato il virus del serpente all'organismo umano e una volta adattato all'organismo umano questo si è diffuso trovando non trovando ostacolo nelle difese dell'organismo essendo un virus sconosciuto. Però come sempre io voglio dare una mia analisi anche una buona novella perché uno lo fa terrorizzato si chiude in casa si mette una mascherina e appena viene un cinese scappa gambe levata in questa carità questo certamente può essere una soluzione quella di non frequentare i nuovi affollati quella di essere cauti insomma naturalmente non sarebbe il momento giusto per andare in Cina e frequentare un affollato mercato cinese però cerchiamo di capire come agisce questo virus e perché è così pericoloso. Questo virus in realtà agisce indebolendo la capacità del nostro organismo di produrre interferone ovvero l'interferone è una citochina che allerta il sistema immunitario le citochine sono dei messaggeri immunitari allerta i nostri linfociti nei confronti delle difese antivirali quindi noi siamo colpiti da un virus i nostri linfociti reagiscono producendo interferone e producendo interferone c'è una aggressione e una distruzione delle cellule che sono state contagiate dal virus ovvero le cellule che diventano serbatorie del virus. Questa è la ragione per cui normalmente quando un virus ci colpisce la risposta interferonica che è una risposta innata nel nostro organismo riesce a sconfiggere questo virus. ecco questo è il concetto. È una peculiarità perché altri virus come per esempio il virus di Epstein-Barr della mononucleosi infettiva agisce in un altro modo. Agisce per esempio quest'altro virus stimolando la secrezione di una sostanza simile all'interocchina 10 che invece va a sopprimere il sistema immunitario quindi una cosa diversa. Qui invece si va direttamente ad inibire l'interferone. Allora quale può essere la soluzione che ogni giorno vi do qualche piccola speranza, qualche piccola soluzione, qualche idea interessante? È quella di assumere dei cicli, specialmente adesso che siamo in inverno, assumere dei cicli di sostanze naturali che stimolino i livelli di interferone nel nostro organismo. Quindi direi che può essere una cosa molto interessante. E cosa che stimola in particolare i livelli di interferone? Una cosa interessante è da dire che tutti i funghi medicinali in generale stimolano i livelli di interferone. quindi noi conosciamo, adesso tra l'altro nel nostro podcast ogni venerdì parleremo di un fungo medicinale e comunque conosceremo l'agaricus blazei murili che stimola l'interferone, i beta-glucani dei funghi stimolano l'interferone, il maità che stimola l'interferone, il fungo resci stimola l'interferone, lo shitake e così via. Tutti questi funghi medicinari in generale stimolano l'interferone. E tra l'altro voglio citarvi anche qualcosa di nuovo, ecco c'è un fungo che si chiama Formitopsis officinalis, il quale fungo abbastanza comune ma non tanto conosciuto nell'ambito della microterapia è stato a suo tempo sperimentato e ha dato dei risultati quando si stava cercando qualche terapia per la SARS che è stata diremmo la precedente grande paura nell'ambito di questi coronavirus che si è verificata attorno al 2011. Poi ci sono state altri coronavirus per esempio in Medio Oriente eccetera eccetera. Quindi questo fungo è derivato interessante in questo virus che è molto simile al punto di vista genomico con questo virus che è nuovo ma simile che è comparso ora. Quindi ricordiamoci funghi medicinali, questo se vogliamo fare qualcosa di originale, pensiamo a questo Fomitopsis e poi ricordiamoci che il nostro solito, ecco mi stanco di citarlo ogni volta, il nostro solito astragalo, il ginseng, la rhodiola e anche la vitamina sonnifera, lo zenzano, tutte queste piante che conosciamo bene stimolano il sistema interferonico ovvero le difese antivirali in generale e le difese anche di questo virus in particolare. Naturalmente non possiamo assumerle all'ultimo momento, noi dobbiamo tenere alta la nostra difesa antivirale, la nostra difesa interferonica. Come ho detto tante volte già l'assunzione di astragalo può essere una cosa estremamente interessante che noi possiamo fare. Quindi staremo a vedere adesso nei prossimi giorni come si svilupperà questa epidemia che spero che rimanga epidemia e poi rimanga questo focolaio localizzato come è stato così per la SARS, per la MERS, che è stata un'altra epidemia di coronavirus che si è verificata in Medio Oriente e che non diventi naturalmente una pandemia. Per il momento l'Organizzazione Mondiale di Sanità non ha lanciato allarmi particolari, abbiamo le armi oggi per isolare queste minacce per l'umanità, però il fatto di sapere il meccanismo d'azione di questo virus e sapere che noi ci possiamo difendere non solo lavandoci le mani e mettendosi la mascherina, ma anche stimolando la nostra difesa e in particolare la difesa interferonica può essere estremamente interessante ed utile. Arrivederci.